Primi provvedimenti concreti del commissario delegato all'emergenza all'Uvione in Sardegna, il capo della protezione civile, Giorgio Cicalò, che ieri sera ha emesso la prima ordinanza operativa. Tra i provvedimenti, Cicalò ha stabilito contributi mensili alle famiglie, 200 euro a persona, l'attività di ricognizione dei fabbisogni del patrimonio pubblico e privato, delle attività economiche e produttive. Il commissario delegato ha anche autorizzato tutta una serie di interventi per rispondere all'emergenza e si avvale delle strutture organizzative, del personale della regione, degli enti e delle agenzie regionali, ma anche della collaborazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali. L'ordinanza impegna il commissario anche a predisporre entro 20 giorni dall'emanazione un piano che contenga interventi urgenti di soccorso e di assistenza. Cicalò, con la collaborazione dei sindaci, è autorizzata ad assegnare alle famiglie la cui abitazione principale e abituale sia stata distrutta del tutto o in parte, o comunque sia stata sgomberata, un contributo di 600 euro mensili e comunque nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare. Se questo è composto da una persona, il contributo è di 300 euro. Qualora in una famiglia siano presenti persone portatrici di handicap, viene concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili. Si tratta di un primo intervento che va incontro all'emergenza. Questo sul fronte delle famiglie e poi occorrerà occuparsi delle imprese. La Confartigianato ricorda che nei 55 comuni sono presenti 36.912 aziende, 9.211 sono imprese artigiane e molte di queste, specie in Gallura e Baronia, sono state devastate dalla valanga di acqua e fango.